Le autorità israeliane hanno fatto sapere domenica di aver recuperato i corpi di sei ostaggi detenuti da Hamas nella striscia di Gaza dal 7 ottobre, tra cui il giovane israelo-americano Ersh Goldberg Paulin, diventato uno dei prigionieri più noti quando i suoi genitori si sono incontrati con i leader mondiali e hanno fatto pressione per il suo rilascio, anche alla Convention dei Democratici negli Stati Uniti il mese scorso. I militari hanno dichiarato che tutti e sei sono stati uccisi poco prima dell'arrivo delle forze israeliane nel tentativo di salvarli. Il loro recupero ha scatenato richieste di proteste di massa contro il primo ministro Benjamin Netanyahu, che molte famiglie degli ostaggi e gran parte dell'opinione pubblica israeliana incolpano di non averli riportati vivi in un accordo con Hamas, per porre fine alla guerra che dura da dieci mesi. Indetta per le 19 di domenica una grande manifestazione davanti al Ministero della Difesa a Tel Aviv.